Sei punti in due gare e la Roma sta tornando in alto. Sì, siamo stati bravi a vincere questo, era importante per ritrovare un po' di continuità prima della sosta ed era importante vincere il Pia Parma. Brian, cos'è cambiato? Cos'è che ha fatto svoltare, almeno nelle ultime gare, anche la prestazione della squadra? Come ho detto prima, abbiamo trovato la continuità che mi ha sempre fatto le prime partite, però alternate a prestazioni non buone. Adesso stiamo riuscendo a fare un po' più di continuità ed è quello l'importante per arrivare alle posizioni che ci aspettano. E la tua crescita che puoi dirci? La mia crescita è normale come cresce la squadra, cresco io insomma dopo un po' di adattamento, una squadra nuova, un posto nuovo, poi col passare del tempo si riesce a avere un miglior feeling con i compagni e con la squadra. Che giudizi possiamo dare della stagione nella Roma adesso che siamo arrivati a Medan? Abbiamo dimostrato che possiamo giocarcela con tutte, però abbiamo sbagliato tante volte con squadre magari più piccole, sulla carta erano più semplici e come ho detto prima dobbiamo trovare nella seconda parte di stagione la continuità che ci è mancata in questa prima parte. Avete rischiato qualcosa nel primo tempo o poi avete accelerato nel secondo? Sì, insomma, loro sono bravi a ripartire, sono stati bravi a stare tutti dietro al primo tempo e ripartire veloci con quei giocatori davanti. Poi nel secondo tempo mi hanno trovato qualche spazio in più e sono stati bravi a chiuderlo. Grazie. Ciao, ciao.